Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ragazzi, ho trovato il mio fidanzato che poi si è scappato via, non si sa perché, ti certi no? E' Zinnarino? Cioè tu mi porto a forza pari e ti fai così E ti porto dove vuoi tu? Dai Guzzo, lo torna, ti faccio un prive gratis Ok Accetto, accetto Maestro me la fa anche una cosa Allora Esci, fai un scherzo Sì Vieni fuori, vieni fuori Siamo a fumare la sigaretta Andiamo a fumare? GOOOOOOOL Questo è bello In fila, no, che schifo le file Andiamo a fumare? Andiamo a fumare, andiamo a fumare Dove si esce? Da qua? Ah, quasi così Diritto o di là? Vieni, vieni Andiamo Vai Da cosa o là? Dino La Sony con il... No, no, c'è i danni lì Ah, poi andrò qua la lampanina Maestro Vai Vieni, 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 vieni Vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Ho pisciato Ho pisciato Ho pisciato Ho pisciato Eeeh Ho pisciato Eeeh E' soddisfacente Dalle nove, porco dio E' soddisfacente Tutte e due? Ah, è un problema questo Prima che questo Dopo di farmi vedere Cos'è il filmato? Eeeh Dietro notti Ah, vabbè E va bu Facciamo una foto di rifli Vai, vai, ti faccio Non è vero Ho fatto la fila come tutti eh Io però vi chiedo Posso saltare la fila Perché ho la pausa sigaretta? Posso? Accetto un sì, un no Sì, si fanno i cellulari Te la faccio No, però scusami No, però scusami Adesso Due secondi Ah, due secondi Finitemi Non sono quello contro l'uomo Per un paio di tette Noo Sto scherzando Vabbè, non si rifiuto Sto scherzando Vabbè, non si rifiuto Ma stai scherzando Ma stai scherzando Ma stai scherzando Vieni con noi Noo Bisogna fare una foto? Sì, ma finisco un attimo di fumare Bisogna trovarci in hotel Ti vengo a trovare in hotel Ehi, sono Andiamo a trovarla Dammi il cellulare Oh, grazie Va bene Non farti il selfie eh No Grazie Ciao 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 sì ma non lo dire perché siamo di dove abitato però voglio che non ricordiamo siamo in brianza quando sei live non te ne rendi conto ma sei molto più rilassata e fatti tante volte anch'io sistema i capelli siamo di sistema i capelli oddio sto camminando alle 9 di stamattina ho scoperto la banca di power e power bank gli abbiamo rubato tutti i soldi gli e fratello andiamo a scioppare gucci e nike con dei 4 david house la coppia qui ti seguono sempre così ok poi c'è una coppia ma lo ha Bianchi clip ciao a tutti ma lo atti ciao a tutti ma ti ha spregato voi ti prego e ci stiamo ti prego e ci stiamo ti sei spregato io no c'ho un po' di pelle non ti preoccupare ti do il braccialino ce l'ha instagram? eh si vedi nel parchetto faccio cocaina ci schianto eh ci schianto ci schianto no mi devi dare il tuo instagram mi devi dare il tuo instagram ah eeeh l'instagram ce l'hai qua? eh la so però come faccio? ah va bene dai ah sei live? ok saluto ah metti il follow tu lui ce l'ha il mio instagram grazie ti devi registrare ti posso chiedere di abbassarti un po' di venire grazie 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 ciao si si mamma mia mamma mia mezzanotte figlio andiamo al boba così guarda lo so che fa male uno stile di video così lo so lo so potrebbe porgere un saluto al caro capa capecazza l'abbiamo visto in live da fabio domenica si si eeeh eeeh come se fa come se fa come se fa senza rumore giri la stanza come se fa come se fa sulla col tangata e lo strapperevi e mi fa banzzi 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 buon giorno buon giorno cia banzzi 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 buon giorno ciao bipi